Alla ricerca delle balene! Oh! Un negozio di animali! Wow! Guardate questi gecchi dal buffo aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui! Si spostila, prego, leone marino! Perché questo grande leone marino non ci lascia passare? Per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato. Sei aggrappata a un arbusto e non morirà di fame, perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno.